Grazie a tutti, oggi parliamo di una cosa molto importante del trasmittore di WaveArt FM DDS, il limiter della modulazione. Il limiter della modulazione è una cosa standard, come anche il stereo encoder, che è presente in ogni trasmittura. E c'è una specifica NETC che rende questa funzione mandatoria. Deve avere questa funzione. La implementazione di WaveArt è davvero impressionante. Per risultato, limitiamo la modulazione con un clippo soft che è oversamplato e filtrato. In questo modo, abbiamo il clippo, ma senza avere la distorsione che un clippo standard può generare nella modulazione. Ora ascoltarete e vedrete come è la modulazione senza il clippo soft. E vedrete che la modulazione è oversamodulata a più di 120 kHz. La modulazione è oversamodulata La modulazione è oversamodulata la modulazione è oversamodulata la modulazione è oversamodulata e la modulazione è oversamodulata con la stessa musica e il stesso livello alla input del modulatore. Ora inizistiamo iniziare il clippo e vedrai che praticamente non c'è una differenza nel volume e non c'è una distorsione ma vedrai che la modulazione resta in più o meno di 75 kHz. Come avete visto, il risultato del soft clipping è veramente impressionante, è veramente unico. Quindi puoi stoppare la modulazione a 75 kHz senza ascoltare la distorsione e senza avere il problema dei piccoli modulazioni che possono disturbare i canali di ADS. Grazie per la visione!